Hey! Ciao a tutti, io sono Jake e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui per fare una Bad Wars e utilizzerò una delle armi più forti del gioco, ovvero la spada dell'infinito. Solite premesse, se non siete iscritti iscrivetevi perché il 40% di voi non è iscritto direttamente al canale, quindi chi ci vuole lasciare un'iscrizione. E lasciate anche un like perché è bello il video, quindi fatelo. Quindi più lasciate un like più mi viene voglia di far video, quindi fatelo. Ciao Mr. Jake, le dono una spada speciale e la dichiaro Cavaliere di Sotato. Adesso mi ritiro e arrivederci. Oh, c'è che qua faccio male, ma molto male. Adesso possediamo una spada di Gris. Logicamente, tirandola ad una persona, io lo dovrei shottare, teoricamente, quindi apposto così. Guarda cosa. Bellissimo. Mamma mia, impazzisco. Ok, vai, vai, di nuovo, di nuovo, di nuovo. Devo fare stra attenzione perché non è che posso utilizzarla, ho solamente una volta per utilizzare questa spada qui, quindi deve essere una partita no death. Però sono veramente un bravo ragazzo, cioè, no, no. Che botta che ho tirato. Bellissimo. Ma? Mi sento saitava, mi sento. Mi ha ucciso. Eh, sapese. Dico a me che siete abituati sempre tipo con le classiche domande che faccio nei video. L'altra volta era che pizza prendete, stavolta qui. Cosa preferite, tra pasta al ragù o pasta al pesto? Ditemelo nei commenti che se almeno so quanta gente appunto arriva a questo punto qui del video. E almeno mi fa piacere almeno perché se ve lo guardate tutto quanto è figo. No, 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 no. It's Mike. Trattino passo baby. Mamma mia, senti di becco in partita, guarda quante botte. Ok, dimostriamo che adesso siamo in grado anche di vincere senza la spada dell'infinito, quindi proverò a vincere. Uno, due, tre, 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 tre. Non mi basta di blocco. Ne è più alto, ne è più alto, ne è più alto. No, doppia spada, ma che so chi di tome? Buonasera! Questo è come che ha già tipo le pozioni, questo è incredibile. Ma? Ma che... Oddio, ma è un laguli questo ragazzo What? No, 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 no Perfetto No, 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 no Dio, se laghi te Non è volato via Ok Martelletto è ancora scoperto Ma non vola all'inord video Vole indietro Beh, mi dispiace, fratello Addio Ok Dov'è il bianco? Ah, ma il bianco è ancora il letto, già Oddio 360 carp cuando Oddio, sono partito in avanti, sono partito Ora vi dopo, ora Odio, è qui Ma ha troppato la spada, ha troppato Tipo, ho spaventato un botto, si è spaventato Cioè, tipo, ha troppato direttamente la spada, ha troppato Suka Sono veramente troppo forte E niente, il video è corto, quindi lo so, quindi buona Quello che vi piaccia, lasciate un like, iscrivetevi al canale E vi voglio bene, ciao Ciao